The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmans, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Roma Multiservizi SPA, da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. Montanitta. La nostra professionalità al vostro servizio.it Siamo un'azienda leader nei servizi di sanitaria. Buonasera, ben trovati. Un nuovo appuntamento di terzo millennio. Approvato il DL Aiuti Quater per il governo Meloni. È tempo di guardare alla manovra economica. Nelle prossime settimane si dovranno mettere a punto i principali interventi al centro del dibattito economico. E il tempo, ahimè, non è molto. Mentre molto, ovviamente, è la carne al fuoco per una manovra che dovrebbe essere di circa 30 miliardi di euro. E potrebbe contenere vari cavalli di battaglia elettorale, tra cui la flag tax, il cuneo fiscale, la revisione del reddito di cittadinanza. Ma su questo già c'è una certa indecisione fra i componenti dell'attuale compagine di governo. Cercheremo di capire tutto ciò, ma anche quelle che possono essere le situazioni per l'efficientamento energetico con gli ospiti dell'odierna puntata. Do il bentornato all'ex deputato e imprenditore Paolo Ricciotti. Buonasera, bentornato. Bentornato al presidente di Sistema Impresa Roma, Francesco Pasquali. Buonasera. E do il benarrivato all'imprenditore Quality Pan Gianluca Mansueto. Buonasera. Allora, il taglio del cuneo fiscale è tra i principali obiettivi del governo. Se la dobbiamo dire tutta, un po' tutte le compagini di governo, quando sono entrate in carica o in campagna elettorale, hanno lanciato questo cavallo di battaglia. Cioè, abbassiamo le tasse, meno tasse per tutti, più soldi per tutti. Vabbè. Avverrà però gradualmente con l'obiettivo primario di alzare i salari. Quindi, due terzi per il lavoratore e un terzo per l'azienda. Pasquali, è una cosa veritiera, è un'altra, diciamo, delle sparate che poi non avverranno mai? O secondo lei il governo seriamente sta lavorando in questa direzione? Allora, sicuramente tra gli addetti a lavori l'argomento del salario dei lavoratori e della riduzione del tempo dell'orario stesso è un dibattito che va avanti da tempo. La politica, in questi ultimi tempi, sono convinto che ha l'obbligo di prendere in considerazione seriamente l'argomento perché le aziende sono in forte crisi. Quindi l'elemento, il mix dei due fattori, abbattimento del cuneo, riduzione dell'orario di lavoro, parità di stipendio, sono delle misure che secondo me possono entrare in campo. Come però? Stanno facendo in parte, se andiamo a vedere l'ultimo avviso dell'AMPAL che richiama il Fondo Nuove Competenze, all'interno c'è un passaggio che consente il recupero del 100% del costo orario di lavoro per i dipendenti se mixato con una riduzione dell'orario di lavoro, come un'ora a settimana proiettata per tre anni. Sicuramente non è il modo migliore per far partire e decollare questa misura, però, mettiamola così, apprezziamo la buona volontà da parte degli addetti ai lavori dell'AMPAL per aver tradotto quello che era nelle intenzioni della politica. Va da sé, la strada è stata imboccata. Non sono quelle le misure, perché dobbiamo semplificarle, perché oggi le imprese per aderire a queste misure fanno freddica, non possono farlo da sole, nello stesso decreto obbligano a rivolgersi ai fondi interprofessionali che sono degli strumenti a portata delle imprese ma che non tutte ancora hanno una dimestichezza con questi strumenti. Quindi, secondo me, la politica dovrebbe fare un'azione di semplificazione burocratica nell'immediato, subito, e quindi consentire di accedere a queste misure a tutte le imprese che hanno la volontà di mettersi in campo e mettersi in discussione, perché qui poi abbiamo un imprenditore, ma non dimentichiamo che vivono quotidianamente mille, mille pressioni, non soltanto dalle regole stringenti, ma dall'agenzia delle entrate che fa pressing, dalle bollette che arrivano con degli importi che sono fuori misura, e con delle regole anche nel mercato del lavoro che rischiano di essere ancora più complicate, migliorative ma complicate, quindi deve aggiungere semplificazione. Tra l'altro si parla di una riforma strutturale del cuno fiscale che sembra sia l'unico modo per rimettere soldi in tasca ai lavoratori con redditi bassi, ma solo fino a 35 mila euro? Allora anche lì si è fatta una scelta riduttiva, va da se apprezziamo la buona volontà, però diciamo l'Italia ormai non può andare avanti con i buoni intenti o con la buona volontà, serve coraggio, serve coraggio perché lì sì e no vai a prendere un numero di dipendenti che sfiora forse i due milioni su numeri più elevati, quindi vuol dire che è una misura che può essere di nicchia, vogliamo pensare che sia sperimentale, non abbiamo i tempi per le sperimentazioni in questa fase del Paese, quindi a mio avviso la politica deve correre, prendere coraggio, sicuramente neanche annientare misure di strumento di sostegno alla povertà come il reddito di cittadinanza, ma renderlo finalmente virtuoso e soprattutto responsabilizzando chi lo percepisce, perché dovrebbe innescare un meccanismo che percepisco il reddito di cittadinanza, ma fatemi fare formazione, inseritemi nel mercato del lavoro, datemi la dignità che merito, perché altrimenti spesso ci abbiamo, che rischiamo di trovare degli individui che vivono una situazione di povertà e anche quasi di caccia alle streghe, che penso sia una situazione che nessuno di noi possa vivere. No, è improponibile. Quindi a mio avviso devono riperfezionare quegli strumenti che sono stati messi in campo, ma farlo con delle regole che in Europa funzionano, se in Europa funzionano possono funzionare anche da noi, va da sé che se noi abbiamo quattro persone all'interno degli uffici che sono i vecchi navigator, vediamo quelli che stanziano la Germania, la Germania ha circa 4-5 volte il numero di quegli operatori, ma operatori preparati soprattutto, e quindi non degli imboscati, infornati, che vengono fatti magari sotto campagna elettorale, perché ci serve quel numero di preferenze. Noi dobbiamo uscire un po', secondo me, ecco, serve un salto culturale. Credo che oggi la politica, in virtù dei bisogni reali delle persone, abbia forse anche quella spinta emotiva e quel coraggio per poter fare quelle scelte, che le parti sociali però sono pronte a fare. Lo so, questo ce l'auguriamo. Che gli intercapitini sociali, i sindacati, le associazioni datoriali sono molto più mature rispetto alla politica ad oggi. Indubbiamente. Allora, Mansueto, innanzitutto ricordiamo brevemente quella che è la storia di un'impresa, una storia che può funzionare in un paese come l'Italia, perché tutti dicono, ah, in Italia non si può fare nulla, in Italia è difficilissimo fare imprese, giusto, giustissimo. Abbiamo le tasse in assoluto, l'imposizione fiscale più alta d'Europa, o almeno dei paesi occidentali, di termine uno che ha delle tassazioni come le nostre, però contestualmente poi con la buona volontà, con la tigna e con dei prodotti di qualità e soprattutto utilizzando e promuovendo il prodotto, quindi la filiera italica, i più buoni al mondo, si può fare impresa. Lei in questi tre anni ha fatto un lavoro egregio con il suo brand Quality Pan, crescendo in modo verticale. Come ha fatto? Un miracolo? No, non è un miracolo. Tutto parte dalla scelta. Creiamo questo brand con l'intento di differenziarci da quello che c'era nel mercato. non volevamo realizzare dei prodotti e diventare uno dei tanti. Abbiamo lavorato circa sei mesi di studi, di analisi, alla fine abbiamo optato e individuato ciò che secondo noi poteva essere il nostro cavallo di battaglia, ovvero una selezione di grani, in questo caso siciliani, 100% italiani. Quindi siete andati, avete fatto un giro per l'Italia, cercando di valutare e verificare quelli che erano i prodotti di maggiore qualità per dare sulle tavole degli italiani un prodotto giusto, vero, un prodotto italiano, ma un prodotto di grande qualità. E quindi i grani, il sale, tutta una filiera, no? Noi controlliamo tutta la filiera, dalla semina del grano, la raccolta, la molitura, fino alla trasformazione del prodotto finito e curiamo anche la consegna all'utente finale, perché per chi non ci conosce, noi nasciamo come azienda di logistica nel settore dei panificati e prodotti da forno e sul territorio del Lazio abbiamo circa 120 macchine che tutti i giorni ricoprono tutto il mercato. Però adesso, diciamo, nella sua follia, tra virgolette, ogni tanto vai all'estero cercando di esportare questo prodotto d'eccellenza italiano. Quindi è fondamentale sostenere poi gli imprenditori che propongono le nostre eccellenze fuori. Certo, certo. Sì, noi abbiamo un progetto di apertura in un paese estero e a volte devo dire anche a malincuore, perché comunque sono italiano, amo l'Italia, secondo me è il paese migliore, però poi dopo bisogna fare anche delle scelte. Qualora c'è la possibilità di lavorare bene, con tranquillità e con serenità in questo paese, è ovvio che sfido chiunque a dover andare ad investire fuori. Come fate in questo periodo a mantenere un prodotto di grande qualità? Quindi non inficiando la filiera e soprattutto mantenendo i costi all'utente finale, perché in realtà state cercando con grande fatica di mantenere un costo contingentato, ma però per voi i costi di produzione sono aumentati tanto? L'energia è in primis. È una scelta imprenditoriale, purtroppo bisogna fare delle scelte in determinati momenti, in questo momento io ho fatto la scelta di comprimere un po' i miei margini, perché il nostro mercato di riferimento principale è la grande distribuzione, quindi lei mi insegna che se hai un aumento di costo del 40%, devi rigirare questo aumento al prezzo di cessione, di conseguenza al consumatore finale uscirebbe una battuta di cassa troppo alta. Quindi abbiamo fatto la scelta di rinunciare noi a dei margini con la speranza che questo momento di grandissima difficoltà passi, perché le do un dato, noi siamo passati da una spesa media di circa 20.000 euro al mese solo reparto di produzione di corrente a 70.000. quindi le lascio immaginare senza parlare dell'aumento della farina, che è il nostro fattore determinante, l'acquisto della plastica, dei cartoni e tutto ciò che serve. Questo è assolutamente una problematica enorme e è la problematica che tocca maggiormente gli imprenditori, le PMI, perché un aumento dei costi così vertiginoso è difficile. Nella manovra sicuramente c'è un aiuto direzionato ma hanno aiuto a tempo, quindi in realtà poi da dicembre che si fa, non lo sappiamo, speriamo che questa crisi internazionale e soprattutto questa crisi speculativa energetica, perché di quello poi si parla principalmente, venga un po' ridimensionata, perché si parla tanto di tassare gli extra profitti, tante belle parole, ma poi in realtà di fatto di cose pratiche ne vediamo pochi. Ricciotti, per quanto riguarda l'energia, il nostro è un paese indietro di, non so, cinque secoli potremmo dire. Allora, la cosa strada nel nostro paese, io le faccio delle domande e le risposte. Allora, noi abbiamo nel nostro paese basi nucleari americane, ok, pronte nell'eventualità di un conflitto. Quindi nel nostro paese c'è il nucleare, però non abbiamo il nucleare pulito per l'energia. Come mai questa cosa? Beh, questo dipende anche da un referendum. Non è solo nato in un momento. La classe politica diciamo che parzialmente in questo caso non è colpevole, perché il referendum ha bloccato la possibilità in Italia di fare centrali nucleari. Chiaramente oggi ci sono timidi segnali di ripresa su questo argomento, però vorrei ricordare che i tempi poi realizzativi sono oltre 20 anni, quindi parliamo di cose futuribili. Quando oggi il nostro paese, soprattutto le nostre città, hanno bisogno di termovalorizzatori, hanno bisogno di energia alle imprese, di nuovi modelli di finanziamento che non può essere quello che noi stiamo attuando oggi, noi dovremmo prendere un modello della Puglia, ampliarlo, dire che... Qual è questo modello della Puglia? Il modello è semplice, nel senso che in Puglia se tu sei un imprenditore come il dottore e devi fare una copertura di capannoni e quindi devi fare comunque un impatto elevato di pannelli per arrivare all'azzeramento del costo energetico, in questo caso era 70 mila euro mesi... Facciamo capire, se un imprenditore lui ha un'azienda, io decido di pannellare la mia azienda per avere un risparmio diciamo di costi ma soprattutto per essere green quindi un doppio vantaggio esatto in che modo vengo aiutato dalla regione Puglia? Attualmente è un fatto regionale e quello regionale più significativo è quello pugliese nel Lazio so che si sta lavorando per fare un minimo di riduzione all'impresa diciamo le parole sta lavorando però il concetto di fondo è questo una regione seria dovrebbe prendere a modello la Puglia e ampliarla e dire bene 50% impresa io in 24 ore ti copro l'operazione come? col credito d'imposta con i soldi immediati con la sconto in fattura chi lo realizza con insieme di fattori l'altro 50% se tu non hai soldi io ti do tramite una struttura pubblica quindi non andando sotto banche private perché c'è un problema di fondo ti do un finanziamento un po' modello agricolo e tu me lo ripaghi in 30 anni questa doppia forbice permetterebbe nel Lazio di arrivare in due anni all'azzeramento dei problemi energetici per le imprese il problema di fondo è che c'è un disegno nazionale che sta iniziando a penetrare anche nel Lazio come in Friuli come in Puglia che va a coprire i tetti ma qui chiaramente ragioniamo su grandi imprese però mi perdoni nel Lazio per esempio è possibile perché la maggior parte dei tetti poi sono tetti piatti e quindi è una cosa neanche difficile di là del dottore che ha una struttura di panificio noi stiamo facendo un progetto per una struttura che produce plastica qual è il nuovo modello che io penso per raggiungere l'azzeramento energetico lui solo col tetto non riesce se non ha un tetto talmente grande che permette quindi dobbiamo autorizzargli un terreno ok come è stato fatto per le zone quindi tetto e terreno adiacente o adiacente oppure anche un po' distante ma che sia possibile realizzare il problema è che dobbiamo togliere i vincoli un po' come è avvenuto a livello nazionale per i cosiddetti terreni industriali dove io posso costruire nei 500 metri limitrofi anche se sono agricoli e posso andare entro i 3 km stessa cosa il mio periodo mi sta dicendo che in due anni due la regione Lazio potrebbe risolvere i problemi energetici si si mette in campo nemmeno tanti soldi perché già il governo nazionale li ha messi cioè in alcune regioni perché se io sono un cliente privato oggi e devo fare il fotovoltaico io il 50% mi coprono l'impianto l'altro 50% lo vado a prendere o con beni propri oppure vado in banca e chiedo un prestito personale oltre al fotovoltaico quale altre soluzioni ci potrebbero essere da un punto di vista energetico perché abbiamo parlato prima con lei di nucleare nucleare di ultima generazione poi ci sta tutto il problema dell'agricolo adesso sta uscendo un bando agricolo nel quale tu puoi fare tutte le energie alternative quindi le energie alternative sarebbero i compostaggi diciamo tutto quello che è utilizzato nell'agricoltura e che può essere poi con le biomasse biogas eccetera però per la impresa energivora in questo caso il dottore è un'impresa energivora direi perché fattura quasi un milione l'anno gli è cambiata la vita penso l'impresa energivora ha bisogno di risposte immediate veloci e oggi se io ho i pannelli immediati in sette giorni tu Stato metti il 50% io ho un finanziamento in automatico con un ente pubblico modello agricolo io lui in dieci giorni inizia a fare l'impianto diciamo che in un mese ce l'ha finito in due mesi ce l'ha finito questo darebbe lavoro a migliaia di imprese nelle regioni ma soprattutto risolverebbe il problema centrale che l'imprenditore in un anno arriva al break even senza dover andare sotto i colossi energetici ma auto facendo solo autoconsumo però poi ci sono i colossi energetici che probabilmente faranno melina cioè nel senso fermati un attimo perché cioè in Italia c'è questa difficoltà della politica diciamo che le imprese chiudono ora tu hai qui un'impresa che ha utilizzato un modello chiaramente virtuoso ma la grande maggioranza pensiamo al mondo delle plastiche questi chiudono tutti non possono leggere come sta avvenendo in tutta Italia che gli industriali perdono mettono in blocco le loro industrie chiarissimo nel pacchetto economico dovrebbe entrare anche tra gli interventi di tregua fiscale l'ipotesi di una nuova rottamazione a stralcio e questo perfetto un'idea geniale meravigliosa per le cartelle fino a mille euro Manzueto questo è ridicolo l'ha già risposto lei è ridicolo perché se tu non fai un vero condono fiscale tu hai tutte le imprese in questo momento dovuto al covid dovuto alla crisi finanziaria che hanno problemi concreti quindi basterebbe considerare quel bene che è cartaceo e ridurlo al 10 al 20% però permettere all'imprenditore di avere i soldi sempre tramite un ente terzo non possiamo mettere l'imprenditore in mano alle banche perché le banche non gli danno i soldi oggi è un fiume in piena Manzueto sono un fiume in piena è così sono pienamente d'accordo con il dottor Ricciotti perché purtroppo per noi imprenditori una una soglia di mille euro penso sia non ti cambia niente uguale a zero non ti fa nulla non ti agevola in nulla non ti aiuta di cosa avreste bisogno voi imprenditori? tra l'altro parliamo di una situazione di impresa che fortunatamente funziona e che sta anche crescendo con grandi enormi difficoltà di cosa avreste bisogno per diciamo fare quel salto che vi permette poi di essere anche internazionali lo dice il PNRR no? cioè se io voglio diventare un'azienda italiana conosciuta nel mondo il mio Stato mi deve aiutare lei cosa vorrebbe dal suo Stato dalla politica? sicuramente dalla politica penso che io da imprenditore vorrei quello che vorrebbero tutti i miei colleghi no? quindi quello che parlavamo prima secondo me la cosa il fattore più determinante è la tassazione è il costo del lavoro perché se un'azienda ha la possibilità di lavorare lavorare bene generare margini di conseguenza questi margini può valutare di reinvestirli nel nostro paese ma anche perché no in paesi che non sono l'Italia potremmo dire che è anche una questione di giustezza sociale nel senso che noi siamo cittadini italiani ma anche cittadini europei però io sono cittadino europeo e lei è cittadino europeo e con le sue aziende paga tre, quattro volte di più le tasse di un altro cittadino europeo in un altro paese e non partiamo dallo stesso sprint cioè è come fare i cento metri e uno parte a 50 e non ci siamo no? proprio per questo purtroppo ci sono degli imprenditori che spesso e volentieri si trovano anche costretti a dover spostare le sedi in altri paesi sempre europei dove hai una tassazione diversa rispetto a noi quella è la cosa enorme Pasquali poi c'è il capitolo del flat tax al 15% si farà non si farà per chi perché qui tante chiacchiere però cerchiamo pure di capire come la politica si direziona perché se uno avesse delle risposte chiare e immediate presumibilmente riuscirebbe a fare impresa o quantomeno a fare i conticini in tasca in modo più semplice così rimaniamo nel limbo delle proposte dell'ostante incertezza è certo no lì allora flat tax è una battaglia sicuramente è una bandiera politica diventata secondo me più che un provvedimento di natura economica e fiscale e quindi come bandiera politica vediamo se la faranno sventolare o meno vediamo diciamo cosa uscirà ma non sarà quella sicuramente la soluzione anche quella va nella giusta direzione ma prima era stato centrato l'esigenza dell'imprenditore abbassare le tasse e quindi garantirgli liquidità o abbassando le tasse o abbassando il cugno ma tu devi garantire la liquidità all'imprenditore perché può fare quegli investimenti e quelle scelte perché là dove non arrivano le banche arriva poi magari la malavita e quindi tu metti alcune aziende in alcuni circuiti che sono ancora peggiori della crisi economica quindi è una parola che magari è brutto da utilizzare non è politicamente corretta ma sì serve un condono serve un condono fiscale per le imprese per farle ripartire e metterle sicuramente riportarle a riva e toglie da questa tempesta che ancora non è arrivata completamente e l'Europa che dice quando utilizziamo questo termine io lì concordo con la Meloni quando inizia a dire diciamo che contrasta l'Europa perché noi l'Europa dovremmo anche migliorarla facciamo parte dell'Europa è casa nostra l'abbiamo fondata dovremmo migliorarla come uniformando alcune politiche perché finché non c'è un'uniformità che lei prima ha centrato se qui pago 100 e dall'altra parte pago 50 questa differenza mi fa partire diciamo in modo c'è una concorrenza sleale chiamola così sia in termini di qualità del prodotto sia in termini di costo del prodotto poi noi ce la capiamo perché il Made in Italy su alcune cose siamo delle eccellenze e quindi alla fine ci possono mettere qualsiasi difficoltà ma riusciamo ad andare sul mercato ma questo è un altro conto potremmo andarci meglio e potremmo andarci anche in molti mentre invece oggi secondo me soltanto un piccolo pezzo del paese riesce a entrare nel mercato riesce a internazionalizzare il prodotto questo perché anche lì le misure che sono state previste dal governo sono delle misure complicate perché ci sono dei bandi a livello regionale ma per accedere a quei bandi è complicato per il singolo imprenditore se non sta all'interno di una rete o di un contesto tra virgolette associativo è quello il problema che è assolutamente complicato però invece tornando alla questione fiscale europea mi avviso se non informiamo la politica fiscale noi siamo liberi di dover aiutare le nostre imprese perché sono quelle imprese che oggi generano ricchezze generano posti di lavoro e quando un'impresa chiuse il paese tutto è più povero il paese è meno sicuro si creano una serie di a mio avviso di riflesso una serie di conseguenze che oggi loro non hanno conteggiato quando evitano di mettere sul campo determinate misure perché pensiamo a alcune strade anche della nostra città Saracinesche e chiuse affitti che sono che si sono abbassati questo ci dà la misura a quella zona sicuramente sarà meno sicura quella famiglia oggi non lavorerà avrà fatto un altro lavoro quindi poi mettiamo quelle misure e qualcuno poi politicamente ci fa anche la sua ricchezza politica del reddito di cittadinanza che diamo diciamo aiuto al povero ma mantieni lo tale e noi dobbiamo uscire secondo me da questa da quest'ottica oggi abbiamo secondo me siamo davvero davanti a un bivio se non facciamo quelle misure che servono alle imprese e le ascoltiamo io ho apprezzato anche le critiche di Confindustria recenti spero che siano state percepite con critiche costruttive che queste misure sono dei pannicelli caldi come si suol dire perché anche le mille euro dell'agenzia delle entrate ci stai prendendo in giro Ricciotti per quanto riguarda il super bonus come lo vedete perché in realtà sul super bonus si è aperta veramente il vaso di Pandora adesso è diventato il super bonus dei super ricchi perché perché inizialmente chi ha usato il super bonus ha avuto la possibilità economica di farlo in tempi brevi quindi c'era la possibilità di farlo tantissime famiglie in difficoltà o le piccole aziende si sono ritrovate con il famoso cerino in mano nel senso che con palazzine fatte a metà con crediti bloccati ne stanno nascendo la proporremo qui la settimana prossima ne sta nascendo un'associazione molto importante che andrà direttamente in Europa per cercare di avere risposte su tutti questi crediti sono crediti dovuti dagli al limite non li dai più in futuro ma fino ad oggi erano stati era una legge per quale motivo non li devi dare si parla invece di portarlo al 90% secondo lei è giusto c'è senso è una buona manovra no secondo me non è una buona manovra dovuta anche a una diciamo a un modello di stato schizofrenico primo perché nelle campagne elettorali mai nessuno dichiara il vero questo è il vero problema del nostro paese quando in America fai la campagna elettorale e dichiari che non tocchi il 110 fino alla scadenza anulare che era il 2023 invece purtroppo è stato il primo provvedimento di questo governo che ha toccato un comparto che stava dando il PIL questo è un punto che mi interessa lei ha fatto il deputato e quindi nel palazzo c'è stato come mai che la classe politica italiana che è il grande problema del nostro paese perché ricordiamo noi siamo un paese che dovrebbe essere autosufficiente vivere di turismo abbiamo le più grandi biodiversità siamo fortunati abbiamo il 70% diciamo di quello che è il comparto archeologico mondiale l'Italia è veramente un posto meraviglioso poi la classe politica ogni volta in campagna elettorale comincia e spara e scusi cazzate in continuazione in quantità industriale e di queste dieci proposte ne fa due continuamente ma perché non imparano dagli errori? perché allora intanto c'è un problema di formazione perché chi fa le campagne elettorali non ha uno staff di formazione economica o di altri settori e quindi ha i sondaggi dove il popolo dice io voglio quello e quello si organizza con quello che chiede il popolo quindi internet ha peggiorato non è solo internet però in buona parte anche internet sono i grandi potentati facebook google eccetera eccetera che manovrano se pensiamo che il nostro paese è l'unico paese al mondo che in sette anni ha cambiato ogni elezione ogni due anni c'è un nuovo partito che prende il 20-30 e dopo due anni crolla e non prende più voti quindi vuol dire che la situazione complessiva cosa che non avveniva nella prima repubblica oggettivamente perché chiaramente era molto complicato che l'elettorato cambiava voto cambiava voto e oggi cambia voto in funzione domani forse nella regione uscirà un simbolo nuovo noi stiamo qua probabilmente abbiamo guardato una cosa ma diciamo questo simbolo difende il 110 perché qui anche c'è un modello di sviluppo sul 110 le regioni che ci stanno a fare che non lo sanno che l'80% dei loro cittadini non potranno fare il 110 e questo non è equo non è giusto è scorretto e quindi le regioni i nuovi programmi devono inserire questa cosa ma gli elettori purtroppo in Italia non votano in funzione degli interessi ma votano in funzione del momento storico ecco perché ogni giorno cambiano consenso e questo sta indebolendo la classe politica mi sta dicendo che in realtà in Italia abbiamo una classe politica che segue il consenso sempre e comunque e questo è fondamentale il populismo qualcuno lo chiama populismo qualcuno lo chiama consenso il populismo oppure una classe politica che sia adeguata ai social che fa swipe quindi cambia oggi va di moda il super bonus e farò questo quest'altro e il giorno dopo se dice l'opposto è andato se c'è un'altra cosa che va di moda le persone sono un po' scordarelle però mi sta dicendo che c'è anche poi un pubblico un elettore poco attento molto poco attento e che quindi vota e il giorno dopo già dichiara se non funziona cambio voto quindi in questo momento diciamo che non c'è un elettorato stabile e quindi questo ne risente il paese rispetto a un elettorato poco stabile perché un elettorato poco stabile cambia opinione in funzione se noi adesso andiamo e andiamo in tutti i condomini dove stanno correndo per fare le cilas come tutti sanno entro il 25 perché si sono svegliati due signori un uomo e una donna e hanno detto che il 25 bisognava fare le cilas perché chiaramente questo uccide l'impresa perché la non programmazione per chiunque vuol dire e quindi è chiaro che questo crea problemi poi cade nei condomini il condomino sa che il suo palazzo è vecchio pensiamo alle borgate romane pensiamo alle borgate dove c'è stata una crescita senza urbanistica quelli stavano facendo tutti le case perché le ripulivano le facevano e oggi invece quei signori gli devi dire da domani grazie ad alcuni signori tu devi pagare da 10 20 mila euro ma guarda che nel 2023 rischi che i signori cambiano ancora di nuovo e tu non paghi più 20 mila euro ne paghi 40 mila e noi sappiamo già che non le fanno più quindi è proprio un modello di presenza che chiaramente indispettisce le imprese ma anche i cittadini i quali adesso si ritrovano tutti a correre il 24 il 25 per fare stagione saranno inondati tutto il sistema italiano dopodiché qualcuno dice ma forse poi c'è la proroga qui in Manzueta è così difficile fare l'imprenditore cioè il vostro più grande più grande nemico è quello che chiamiamo il terzo settore cioè la burocrazia voi cercate di ottenere delle cose dei miglioramenti lei chiede quello che è il suo di diritto e o va dalle associazioni di categorie oppure entri nei meandri della burocrazia e perdi sei mesi o un anno di lavoro per voi sei mesi o un anno di lavoro equivale a crescere l'azienda oppure ristagna o la chiudo sei mesi sei mesi un anno è stato anche breve perché spesso e volentieri nella burocrazia rischi di starci molto molto più tempo ovviamente per un'azienda che non può operare nel periodo in cui è in attesa di ricevere delle risposte o anche dei semplici pareri per sapere cosa devo fare non riesce ad andare avanti perché non riesce a lavorare sicuramente la burocrazia in questo paese è una zavorra cosa che secondo me anzi dal mio punto di vista in altre realtà è molto più semplice portiamo l'esempio dobbiamo aprire un'attività quante licenze dobbiamo prendere quante richieste dobbiamo fare quanti pareri dobbiamo ricevere attenzione quanti pareri uguali ci sono pochi perché sono almeno personalmente quasi sempre contrastanti per aprire un'attività in altri paesi basta una sola licenza e riesci a fare tutto le voglio fare una domanda per quanto riguarda invece le competenze perché le competenze è una cosa fondamentale importante lei per crescere e per crescere in modo importante in questo paese prima o poi dovrà delegare quindi alcune cose le deve fare un direttore a un direttore commerciale quindi ci vogliono delle competenze molto specifiche che però sono figure che difficilmente si trovano nel nostro paese cioè c'è poca cultura cioè pochi parlano l'inglese pochissimi parlano due o tre lingue fluentemente poche persone in realtà hanno competenze specifiche stiamo perdendo un po' la rincorsa rispetto ai nostri competitor europei ma soprattutto nei confronti dei paesi asiatici e i paesi americani perché lì a dieci anni parlano tre lingue a diciotto li mandano in Europa a fare uno stage di tre mesi in un'azienda a venti venticinque sono pronti nel mercato questa manca completamente nel nostro paese sì 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 io concordo in pieno su questo questo è un dato di fatto purtroppo oggi ci troviamo indietro stiamo indietro perché trovare persone che sappiano parlare due o tre lingue è quasi un'impresa chiaro è una cosa molto complessa è una ricerca devi essere fortunato sì tante volte ci vuole anche la fortuna perché individui quella persona e in quella persona ha anche queste oppure te lo formi in azienda oppure te lo formi in azienda ecco io me lo formo in azienda se io mi formo in azienda delle competenze per far crescere la mia azienda avrei bisogno che questa formazione completamente un po' già avviene ma avrei bisogno che questa formazione trasversale venga pagata da qualcuno cioè io metto una risorsa per un anno questo qualcosa dovrà percepire non può stare a fare uno stage gratuito otto ore al giorno però fra un anno è stato in un'azienda è stato a fianco un imprenditore di successo e presumibilmente è una figura importante per il sistema Paese Italia questo passaggio così semplice non è venuto in mente a nessuno in politica ma come mai? perché forse la politica è molto distante è distaccata da noi eh già a proposito vorrei complimentarmi veramente con Bezos uomo meraviglioso uomo fantastico complimenti Bezos che devolverai gran parte di quello che hai guadagnato in beneficenza questo ti fa onore anche perché in realtà sei utilissimo al sistema Paese Italia hai fatto chiudere non so quante centinaia o migliaia di aziende quindi sei un benefattore però contestualmente licenzi 10.000 persone del tuo staff non è tanto un benefattore no questo è diciamo il problema delle multinazionali la politica dovrà affrontarlo e di corsa perché questi signori trovano complicità in altri paesi europei che dovrebbero essere nostri partner dove gli danno una serie di agevolazioni fiscali vengono qui da noi e fanno cartello e ormai sono dei veri e propri monopoli io amo sempre ricordare l'esempio l'esempio di Google oggi noi partiamo da un assunto non potrà nascere una nuova Facebook non potrà nascere un nuovo Google non ci sarà una nuova Amazon perché questi signori ormai hanno fatto un monopolio dobbiamo ritornare secondo me ai Naudi quando nazionalizzò Sisal Sisal era un gioco che prima era privato delle scommesse e quando diventò una sorta di servizio pubblico venne nazionalizzato e lo fece un liberale quindi diciamo fuori da ogni sospetto noi dovremmo fare lo stesso perché oggi Google è diventato un servizio pubblico perché noi per accedere a determinato al mondo internet solitamente passiamo per Google all'interno dei nostri Android abbiamo Google ma un Google italiano non può nascere non potrà nascere oggi come non nasceranno i sistemi operativi italiani perché oggi ci sono dei monopoli e quindi quando nasce una start-up la prassi qual è? nuova tecnologia la prendo la compro la chiudo e ce l'ho nel cassetto quindi noi abbiamo tutta una sorta di obsolescenza programmata da questi signori che purtroppo hanno dei numeri che sono altro che le nostre finanziarie e quindi perdiamo anche come posso dire dignità la politica quando interagisce con questi signori però nel fuorionda e nel fuorionda io lo diciamo tanto prima o poi ci chiuderanno quando succederà non ci vedrete più e ve ne accorgete da soli nel fuorionda manzueto mi diceva una cosa importante le grandi multinazionali soprattutto sul prodotto fresco tipo Amazon stanno veramente massacrando completamente la piccola e media impresa licenziano come gli pare fanno quello che gli pare il problema è che poi non c'è la famosa web tax si è tanto parlato in Europa per un periodo di una web tax cioè metto alle multinazionali una tassa fissa si parla del 15% ma è rimasto un ipotetico manzueto questo è il più grande sono i vostri più grandi competitor in realtà si loro stanno come dicevo come parlavamo prima stanno io l'ho definito stanno uccidendo il mercato perché poi loro ti chiedono delle cose assurde ti mettono dei vincoli assurdi quindi o noi o niente quindi capisce che che mi sembra un motto di guerra le dico la verità o noi o niente mi ricorda un famoso motto di guerra però questo è il loro modus il loro modus operandi e come ragionano se calcoliamo che durante il periodo natalizio un'azienda come Amazon fa il pieno di tutti i vettori quindi di tutte le aziende di logistica di conseguenza se ce ne sono cento e novanta le prende Amazon il restante dieci va diviso ma un'agevolazione per esempio scusate Ricciotti e poi Pasquale poi ci dobbiamo salutare ma un'altra cosa poi ogni tanto ci vengono in mente nel nostro salotto dei suggerimenti al governo se magari ci ascoltassero la cosa sarebbe buona anche perché sono suggerimenti che facciamo in sinergia con le associazioni o con gli imprenditori che stanno sul campo e questo è fondamentale ma uno sconto da dare all'utente finale al cittadino che acquista se compro nel negozietto se compro nella PMI italiana si può fare contro una normativa europea cioè io invece di comprare un prodotto non c'ho niente però è semplicemente perché loro hanno dei costi molto più importanti cioè lì c'è il costo della logistica questi hanno il negozio fisico i dipendenti assumono persone e fanno mantenere famiglie quindi cosa importantissima ti do uno sconto del 10-20% se acquisti un prosciutto dentro un alimentare rispetto a se lo compri dalla multinazionale potrebbe essere un'idea sì questa è un'idea il problema che non risolve il problema di fondo che è quello del trasporto perché tutto questo problema della grande crescita esplosiva di Amazon del controllo del 90% è perché il nostro paese non ha fatto mai una riforma della logistica noi avevamo un problema di fondo in tutti i paesi costa poco trasportare le merci perché è su treno cioè loro hanno fatto la logistica al posto del sistema paese Italia esatto se noi analizziamo che dalla Cina arriva il prodotto qui e arriva addirittura prima che parte dall'Olanda perché arriva? perché ormai il treno supera qualsiasi barriera noi potremmo fare una logistica molto e dato che abbiamo aziende primarie europee come Ferrovie dello Stato invece di farli fare assume dirigenti contro dirige dovrebbero intervenire per fare finalmente il polo logistico questa cosa permetterebbe che il piccolo negozio al quale gli dovremmo dare lo sconto quindi condivido non vende più solo sul passaggio ma può vendere su tutto il mondo chiarissimo perché ha la logistica a basso costo se la logistica del pane ad alto costo lui non viene manco in Cina perché gli costi io vi devo salutare io vorrei fare una cosa nelle prossime settimane noi facciamo una cosa molto molto carina facciamo una serie di proposte in questo meccanismo di confronto con gli imprenditori poi le pubblichiamo e speriamo che qualcuno ci ascolta perché tanto meglio di un imprenditore che sta sul campo un esperto per quanto riguarda le rinnovabili o una persona che comunque è in contatto con decine centinaia di migliaia di aziende meglio di loro sulle proposte sulle problematiche e su quello di cui hanno realmente bisogno credo non ci sia tutti d'accordo noi ci lavoriamo se volete potete anche voi da casa darci tranquillamente dei suggerimenti in base a quelle che sono le esigenze o quello che vorreste che la politica facesse per voi detto ciò vi auguro una splendida serata una buona cena e ci vediamo immaccabilmente domani grazie a tutti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente anzi leggerissima parole senza mistero allegre ma non troppo metti un po' di musica leggera nel silenzio assortante per non cadere dentro al fuco nero che è stato un passo da noi da noi più o meno Roma Multiservizi SPA da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato operiamo nelle scuole e negli asili in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione assistenza pulizia igiene manutenzione sicurezza e agibilità siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente contattaci sul sito romamultiservizi.it Roma Multiservizi la nostra professionalità al vostro servizio The Building Hotel 4 Stelle al centro di Roma presenta Gourmans ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva dove gustare il meglio dei sapori mediterranei un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica con materie prime di ottima qualità magistralmente interpretate dallo chef Andrea Cossalter Ristorante Gourmans presso Hotel The Building in via Montebello 126 Roma How can I try to explain When I do he turns away again It's always been the same Same old story place has told me TGreat nome